Cosa ti piacerebbe mangiare per tenerti in forma? Frutta. Per la verdura. A me piacciono le carote. Carote? Benissimo. Poi le patatine fritte però no. Il pesce, i legumi. La frutta. La verdura più frutta. Io bevo solo il latte. Il viso. Scarafaggi. No. Mangiare cose che fanno bene. Super Spike It.